ciao ci siamo buongiorno da Castellammare di Sabina ditta Marazzolosa per iniziare a cambiare lucro a una grande splendida Audi A1 bianca eccola qua uno splendido lucro stai insieme nella sala operatore ecco qua iniziamo a preparare questo bellissimo cec andiamo piano piano è un bel rotor nero opaco diamantato da 17 pollo ecco qua guardate che splendida macchina mamma che bella macchina non tutto non è da tutto perché ragazzi temi di oggi non è facile comprare una macchina una cosa di prima 30 miliardi a modi e mesi comunque la di sette 800 euro i cecchici è buono quindi non è da tutti oggi sono pochi quelli che si possono acquistare i gioielli guarda qua che prego adesso la facciamo vedere fra dieci minuti come diventano questa macchina iniziamo a montare questo specchio ecco qua ci siamo poi faremo could itc 2010 statursi di mesmo ma ecco qua sono 3 eccoci qua ragazzi chiamateci chiamateci e che vuole cambia luca la vostra rispondizione eccoci qua e bello Guarda, guarda, guarda che bello, guarda. Un rovo, un po', un po' e un po' po'. Un po' po'. La ditta marocca di come il castellano armare di scanni. Siamo il numero uno. Chiamateci, vi risolviamo i vostri problemi. Chi ha problemi? Non risolviamo, ragazzi. Ma che ci ferma? Ma lo puoi fare? Siamo da frizzare. Vai, vai, siamo in diretta, vai. Diretta tu, diretta tu. L'ultima pomma, questa è l'ultima pomma. Eccolo qua. Guarda di spettacolo, guarda. Adesso ci sono molti bloccati. Passiamo anche alle pulibratoche dopo. Facciamo un po' di bilanciamento. Ecco qua. E' tutto quasi pronto. Ecco qua. Ecco qua. Eccoci qua. Ecco qua. Eccoci qua. Ecco qua. E' un magno colombiano, vai. Vieni, vieni. Tutto qua non si è con messa, non si è con messa. E' un'altra cosa. Quanto è prezzo, quanto è prezzo, quanto è prezzo. Ecco qua, guarda, va. E' tutto il maio liberato. E' un po' di calzone. E' un po' di calzone. Guarda, guarda. Lo bocca, lo bocca lì. Ho prezzo a fare. Adesso non più nulla, adesso simpiamo l'altra vie. Adesso l'altro legge. Adesso è un proprio mondo. E ora stanno qua. Eccoci qua. Ho raggiunto qua. Allora, ecco qua, guarda, 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 tutto, tac, 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 e uno, e uno, due, abbassiamo il pepe e partiamo con il bilanciamento. Come faccio, utilizziamo anziché questo qua, il compostivo, tiriamo il nero, questo viene da Napoli, questa è la mia camera che ti faccio io, va bene, 10, 10, 10, ecco qua, come vedete, questo, c'è un pulito regalato, ecco, c'è un po' a te, un po' a te, un po' a te, un po' a te, a buttare regli, e hanno fatto qualche rossi, a ghiacchere, a ghiacchere, a ghiacchere, ajaz, a bombare legno, a banche navio, in giubbetto, ecco qua, ci vedremo di tolleranza, la chiamo, ed è tutto a tutto, ecco qua, questa qui la possiamo dare a postrEEP quello del Un saluto da Castellammare, Bruno Marrazzo, 3-3-4-25-50-9-3, buon appetito a tutti e buona giornata, ciao!